Un cordiale saluto da Alex Guarini di Trebimeteo. Sarà un inizio di settimana caratterizzato ancora dall'azione di questa profonda circolazione instabile che richiamerà area più fredda dai Balcani in direzione dell'Italia con un brusco abbassamento delle temperature, soprattutto sulle regioni adriatiche e al sud, che tra l'altro notate verranno ancora interessate da qualche acquazzone e fiocchi di neve sull'Appennino centro-meridionale. Lo vediamo tra poco, guardiamo anche il dettaglio relativo alla nuvolosità, con la presenza di ancora addensamenti sui versanti orientali dello stivale e le regioni meridionali. La tendenza però è a graduale allontanamento di questi annuvolamenti entro fine giornata in direzione dei Balcani, ampie schiarite, prevalenza di bel tempo invece altrove. Ma vediamo quindi tutti i dettagli relativi alla nostra penisola, con ampi spazi di sereno su gran parte del nord, le regioni del medio-alto versante tirrenico, nonché la Sardegna, ancora qualche fiocco di neve non escluso sui settori alpini, ma quelli di confine. Diffuse instabilità sul medio adriatico e al sud, con piogge e temporali alternati anche a qualche schiarita, e anche nevicate sull'Appennino molisano, i rilevi abruzzesi e quelli della Basilicata, intorno ai 1400-1500 metri. Temperature insensibili e diminuzioni su regioni adriatiche e al sud, tendenza a miglioramento entro fine giornata. Con questo è tutto per aggiornamenti in tempo reale, scaricate la nuova app di Trebi Meteo.